Il ritorno in classe, previsto per lunedì in presenza, aumentano le iscrizioni ai licei per il prossimo anno. Gli studenti sardi scelgono soprattutto lo scientifico, sono in calo gli istituti tecnici. Alice Monni. Gli studenti delle scuole superiori e le loro famiglie puntano sulla formazione scientifico-tecnologica per il futuro. Le iscrizioni ai licei per il prossimo anno sono in aumento. In Sardegna gli ha scelti il 61% dei ragazzi. In testa c'è lo scientifico, l'indirizzo preferito scienze applicate, dove al posto del latino si fanno più ore di scienze informatica. Qui le iscrizioni sono in aumento dell'1,3%. Questo futuro è incerto da una parte, che sicuramente vede un orizzonte tecnologico, trova nell'opzione a questo punto di una cultura più ampia, elastica come quella liceale, forse qualche garanzia in più. E in questo appunto sono in netto calo invece gli istituti tecnici. Non c'è stato il temuto crollo delle iscrizioni, nonostante le difficoltà, di quasi un anno di didattica a distanza. Il lavoro che è stato fatto dalle università, dalle scuole, dall'ufficio scolastico regionale, attraverso le tecnologie, credo che abbia alimentato anche una sorta di fiducia in un futuro, che appunto è sicuramente più garantito con una buona preparazione di base. Questo io posso dirlo in particolare per l'università, dove abbiamo visto, abbiamo assistito proprio anche a un aumento dei frequentanti. Il 65% si è iscritto attraverso il portale. Un'iscrizione su tre è arrivata tramite l'identità digitale Speed. Come se in un anno avessimo tutti avuto la possibilità di investire in tecnologia. E questo è sicuramente stato uno dei pochi aspetti positivi di questa emergenza pandemica.